Via libera ha i fondi per dare occupazione ai 34 lavoratori con reddito minimo. I cantieri di servizio sono finanziati annualmente dalla Regione, ma dallo scorso anno erano stati sospesi in attesa dell'assegnazione e del finanziamento dell'anno in corso. Adesso c'è il via libera da parte dell'assessorato regionale e il programma prevede l'utilizzo dello stesso numero dei lavoratori che erano in servizio alla fine dello scorso anno, ossia 34. Ne abbiamo parlato con l'assessore alle politiche sociali Gettina Andaloro. Il giorno 1 posso dire che finalmente pigliano servizio a questi lavoratori. Sono in tutto 34 e sono rimasti dei 134 iniziali. I lavoratori ex RMI fanno parte di un progetto regionale che però ogni anno viene riformulato e rifinanziato con soddisfazione, ed è giusto che lo dico, posso dire che il Comune di Caltari 7 è uno di quei comuni che si può permettere di anticipare il finanziamento per questi lavoratori. Così è stato negli altri anni e così sarà anche quest'anno. da giorno 1 posso assicurare a questi lavoratori che avranno lo stipendo anticipato. Cominciano a febbraio, come i primi di febbraio avranno lo stipendo anticipato. Siamo la lettera di avvalo del finanziamento è arrivata il 16 dicembre dalla Regione. Con questa sicurezza noi che siamo un Comune che può, ripeto, anticipare le somme, li stiamo facendo iniziare da giorno 1 e avranno lo stipendo anticipato. Sono contenta di dire questo anche perché non tutti i Comuni hanno avuto questa possibilità. In batti nella letta delle regioni c'era scritto di poter anticipare le procedure per tutti quei Comuni che potevano iniziare e noi siamo uno di questi e sono contenta di affermarlo.